Quello che abbiamo visto, Pegna comunque sia in questo momento, vedete che non pedala, la discesa è pendente, quando però si trova a dover pedalare non riesce a fare forza, deve girare a 100-120 pedalate e dietro ovviamente i corridori vedono Pegna sempre più vicino, grande stimolo per loro, grande possibilità per i nostri tre attori che sono dietro. Esatto, con uno dei tre Zana che giustamente non può dare.